E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti, condividete questo video con tutti i tifosi di Milan, di Roma ma anche di altre squadre che conoscete, seguite Surfasport su Instagram, guardate i video fatti, quello di ieri con il buon Fabio Bergomi, il video con il Calbi che ha avuto un sacco di visualizzazioni per un video di 54 minuti, mi avete scaldato il cuore ma del resto la qualità era massima, vi avviso anche sui prossimi appuntamenti. Oggi pomeriggio video devastante con il Vitali sulla Fiorentina, punto generale e pre-Fiorentina Lazio col Vitali, dopodiché per abbonati base due appuntamenti, stasera ore 18, pronosti per la 24esima giornata di Serie A che inizierà domani con anche un consiglio fantacalcistico, attenzione, domani sempre per abbonati base continuiamo il campionato master con il Caorle, Caorle Galatasaray con il mio PES, assolutamente imperdibile, con un messaggio del gigione all'interno di cotale gameplay che veramente vi sconvolgerà e devasterà. Bene, veniamo al video di quest'oggi, fare calcio Roma, fare calcio Milan. Partiamo dalla questione Zaniolo. Cosa penso io di Zaniolo? Zaniolo è un giocatore che da che è rientrato dall'infortunio e da che gioca con la Roma di Murigno, diciamo lo sto osservando molto attentamente. Cosa ho notato? Ve l'ho detto anche ieri nel video di Fabio Bergamo. Io sto notando un giocatore che antepone il giocare con la foga, con la voglia di dimostrare a livello personalistico ad una evoluzione tecnica che dovrebbe avere imparando a giocare maggiormente con la testa. Cioè un giocatore che vedo giocare più col fisico, con tentativi di prorompenza, di scatti individuali, di grandi corse, di grandi potenze, di grandi sportellate, di grandi farsi spazi, quando in questo momento della carriera Zaniolo avrebbe bisogno invece di altro. A maggior ragione, visti gli infortuni che hai avuto, dovresti cominciare a giocare un po' più con la testa, anteporre il ragionamento palla al piede, la temporeggiata, il tocco di fino, il giocare più per la squadra. Invece da questo suo ritorno si è visto un giocatore un po' personalista che cerca di dimostrare, di impattare sempre attraverso la via personale, la prorompenza, la foga, lo scatto, la devastanza individuale. Per me in questo momento della sua carriera Zaniolo avrebbe bisogno, vi ripeto, di giocare un po' più con la testa. Avrebbe bisogno di un allenatore capace di insegnargli a giocare un po' più con la testa. Un po' come per certi versi, con tutte le proporzioni del caso, ha fatto Sarri con Zaccagni. Ok? Non so se questo con Mourinho possa avvenire. Perché se voi sentite le conferenze stampa, ma basta conoscere un po' Mourinho, Mourinho è un allenatore che punta molto sul lato mentale, è un mentadente, è un mentalist. Punta sul lato mentale, sul gasare i giocatori, sul fargli tirar fuori la bestialità, la grinta, la voglia. E Zaniolo rischia di interpretare sto messaggio e questo portato dell'allenatore come un invenezianirsi ancora di più e un impersonalirsi ancora di più. Avrebbe bisogno di qualcos'altro dalla sua carriera in questo momento, Zaniolo. Un allenatore che lo aiutasse a giocare in modo più ragionato e più qualitativo rispetto a calporre al primo posto la devastanza personale. Detto questo, per me Zaniolo potenzialmente è fortissimo. È uno dei migliori talenti che il calcio italiano abbia prodotto negli ultimi 5-6 qualche anni. Io lo seguo dai tempi delle giovanili dell'Inter, ha fatto le giovanili anche nella Fiorentina. Zaniolo potenzialmente è fortissimo. E vi dico anche di più, non vedo neanche questo grande impatto degli infortuni nella sua resa finora. Perché non lo vedi pauroso nei contrasti, anzi paradossalmente lo vedi troppo ignorante calcisticamente. Cioè con una foga eccessiva dovrebbe giocare più con la testa. E non so, vi ripeto, quanto Murigno in questo lo possa aiutare. Detto questo, cedere Zaniolo ad oggi sarebbe un malus. Io lo capirei e probabilmente vi direi state tranquilli a cedere Zaniolo se la situazione fosse un'altra. Se fosse una Roma di diverso profilo, ok? Ma visto che hai Murigno, anche se Murigno probabilmente in questo momento della carriera non è esattamente quel che serve a Zaniolo, cedere Zaniolo in questo momento potrebbe essere un brutto segnale. Perché tutti penserebbero a cosa? A ridimensionamento. Hai fatto due buoni mercati, secondo me. Tra Sergio Oliveira, Abram, quelli che hai preso. Per me la Roma a livello di 11 c'ha un buon 11 e poi ci veniamo. Perdere Zaniolo in questo momento rischerebbe di darti la sensazione di aver toccato un tetto. Ecco che prendo Sergio Oliveira e Abram, però mi deve andare via Zaniolo. Però perdo Zaniolo. Invece, visto che hai puntato su Murigno, su sta svolta, diciamo anche perché ti vessi roboante, Zaniolo dovresti cercare di tenerlo. Va bene anche tenere un Zaniolo di questo tipo che magari con Murigno non raggiunge il 100% delle sue potenzialità o non ha una crescita propriamente ortodossa dal punto di vista della maturità calcistica, piuttosto che secondo me perdere un calciatore del genere che comunque è forte e che rischia di avere un brutto contracolpo psicologico. E visto che hai puntato sulla roboanza, un po', diciamo, sull'arroganza, passatemi il termine, calcistica, con Murigno, sta squadra piena di giocatori forti, anche esperti, penso a Sergio Oliveira, tant'è che dovresti cercare di far di tutto per tenerti anche Zaniolo. Se fosse una Roma diversa, se fosse una Roma diversa, una Roma giovane, una Roma magari un po' più di ripartenza, una Roma impostata mettendo al primo posto il gioco, con interpreti giovani, una squadra di ripartenza, allora l'accessione di Zaniolo ci può stare. Ma se hai fatto 7, tanto vale che punti a fare 10 e ti tieni anche Zaniolo. Nonostante, vi ripeto, probabilmente il giocatore avrebbe bisogno di un altro tipo di allenatore in questo momento della sua carriera. E veniamo al discorso tattico. Parlando di un possibile Zaniolo al Milan, mi gaserebbe, ma non saprei. E vi dico anche perché. Ed è una cosa che Milan e Roma hanno in comune. Ma quando cazzo si svegliano Milan e Roma e si rendono conto che il 4-3-2-1 è il loro schema perfetto? Quando si svegliano Milan e Roma e si rendono conto che la cosa più importante che hanno in comune non è il futuro di Zaniolo, ma è il cazzo di 4-3-2-1 che tutte e due dovrebbero fare Legacy Albero di Natale. Ma io vi metto un Milan col 4-3-2-1 con tutti a disposizione, ovviamente, ma anche senza avere tutti a disposizione. Maignan, Teo Hernandez, Chir Tomori Calabria, Ben Nasser, che si tonali, Rebic Leao, e davanti Ibrahimovic Ojiru, che è uno che lavora, dispone e può favorire gli... Ma perché mi devi andare a perdere tempo con i Krunic e trovare a tutti i costi un ruolo e una titolarità quando puoi fare un cazzo di albero di Natale che metti in campo una formazione che fa venire paura a tutti con una delle difese dei centrocampi, ma anche delle tre quarti degli attacchi migliori in Italia? Ma perché non ti schiodi dal 4-2-3-1? 4-3-2-1, tra l'altro, col quale potresti inserire Pobega l'anno prossimo, che in un centrocampo a tre è come il pane quotidiano, o volendolo puoi anche mettere dietro la punta come gioca il Torino. Ma stiamo... E la Roma! Rui Patricio, quando rientrerà Spinazzolo o Metranais, che non è vero, che non sa fare il terzino, cosa cambia? Cambia l'interpretazione, devi contare, per come sta bassa la Roma in tante partite e quasi già lo facesse per certi versi, ma in ogni caso ti metti un Spinazzolo o Metranais a sinistra, la difesa limiti i danni al posto di far sempre quella a tre che ti devi ostinare a mettere in campo magari interpreti non adatti. Ti fai un Ibanez Smalling o Smalling Mancini, ancora meglio. E a destra ci piazzi Kasdor, centrocampo a tre, Pellegrini, Veretucon in mezzo, Oliveira, Zaniolo, Michitean e Abraham davanti. Quattro, sono due squadre che l'albero di Natale dovrebbe essere il loro pane quotidiano. Ma vogliamo parlare del centrocampo a tre Tonali, Benasser che sia del centrocampo a tre Pellegrini, Veretuc, Oliveira, che aiuti anche le rispettive difese, specie quella della Roma che imbarca un po' acqua, fai giocare i più forti. Albero di Natale per tutte e due dovrebbero fare. Il Milan quantomeno affiancarlo a questo 4-2-3-1 che sembra che tu a tutti i costi debba far giocare. Il vero Zaniolo del Milan è il 4-3-2-1. Poi Zaniolo al Milan sarebbe, ma anche lì, Pioli, non so se saprebbe far fare a Zaniolo quel salto di cui vi paravo, perché Pioli è un gestore. Pioli non è uno che si impone tecnicamente e tatticamente sui giocatori. Non è uno che gli dice tu devi diventare, non è un visionario Pioli, non è uno che vede il giocatore, capito, e vede cosa può essere tra dieci anni. Pioli è un buon gestore, è Bernanò, è il diario di un curato di campagna con tutti i benefici che questo può avere a livello di gestione e di rinsaldamento di un gruppo anche positivo. Ma è un Bernanò. Zaniolo avrebbe bisogno di un Sarri, la Butolè, di un Guardiola, di uno che mette al primo posto il calcio di fino, di intelligenza, di ragionata, che gli dice guarda che tu non sei solo il cavallo pazzo che deve fare 30 metri di corsa per farsi vedere e applaudire dal pubblico. Tu sei un grande giocatore. Tu giocando così ti sottovaluti, ti incapreti, ti incavallisci. Cosa sei? Un pony? Sei un pony express che devi farci, facci vedere al posto della tua potenza di gamba, facci vedere la tua testa, facci vedere il tuo piede, facci vedere il tuo ragionamento di fino. Così diventerai un grande giocatore. Capito? Quindi io questo vi dico su Zaniolo, sulla Roma e sul Milan. E il titolo di questo video non lo sarà, ma potrebbe essere Milan e Roma hanno una grande cosa in comune, ma non è Niccolò Zaniolo, è l'albero di Natale. Ditemi cosa ne pensate, oggi pomeriggio un caro saluto e andate a fare in culo. No, sto scherzando. Ciao dopo.